Una delle aree che stiamo esplorando in assicurazioni generali riguarda in modo significativo l'automazione dei processi e in particolare la convergenza tra il mondo della robotica, della RPA e l'Advanced Analytics. Siamo consapevoli che mettendo insieme le informazioni che vengono dall'analisi dei processi, dai log, dai tanti dati che sono ad essi correlati e l'analisi stessa dei dati che può avvenire con dei tool potenti di visualizzazione, di arricchimento, di correlazione, sia possibile andare ad ottimizzare le operazioni così come vengono fatte oggi in modo tradizionale. La convergenza di questi due mondi ci sta portando anche a esplorare nuove tecnologie e con SAS stiamo analizzando quelle che possono essere le piattaforme che ci permetteranno di fare process mining in maniera evoluta, arricchita con una maggiore consapevolezza dei dati di cui abbiamo già grande disponibilità.